Forse ve ne siete accorti. Sotto la sua sponsorizzazione, niente. Hai preso il salmone? Hai preso il caviale per chiamarlo? Senza caviale lo sai che non va, eh? Ok, seduto Yannick. Perfetto, via la partenza Riccardo. Ah lì, cane che ha cominciato da pochissimi mesi a fare questa disciplina sportiva. E adesso parte, e adesso parte. E fa il tunnel, e via Riccardo che va con Libra. Vieni, vieni, sali, sali, oh poverino. E' costretto a superare anche le scarpe del padrone. Sono ostacoli imprevisti. E via andare. Bravo Riccardo, Yannick. Yannick. Ok, bravissimo.